Un'occasione preziosa da non perdere, si rinnova anche quest'anno presso il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta, il Cerca Lavoro, l'iniziativa ideata per facilitare gli incontri tra domanda e offerta di lavoro in un periodo nel quale le opportunità sono minime. La seconda edizione, organizzata con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari, della provincia di Bari e dell'IDP, è stata inaugurata nel pomeriggio di ieri e si concluderà domani sera. In questi giorni, nel lato centrale del centro commerciale, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile consegnare un curriculum vite, ricevere informazioni, avere colloqui di selezione con aziende, agenzie interinali ed enti di formazione. Il Grand Shopping Mongolfiera vuole contribuire non solo allestendo un punto di contatto tra aziende e potenziali lavoratori, ma anche arricchendo i disoccupati con degli strumenti giusti nel cercare lavoro nel modo più idoneo, considerando le personali esperienze e capacità. Sì, più che altro per facilitare ciò che accade nel territorio di non facile, se vogliamo essere più incisivi e anche un tantino più concreti. È un'iniziativa che ha il secondo anno di vita, che l'anno scorso ha avuto un successo per me inaspettato, quindi vediamo che cosa accade quest'anno. L'idea di trasformare un centro commerciale in un luogo in cui chi cerca lavoro e chi lo offre possano incontrarsi è unica in Italia. Non è un semplice workshop, non è un semplice informare, ma con questa iniziativa noi informiamo la gente, la stimoliamo a venirci a trovare e a fare dei colloqui conoscitivi. Gli insegniamo a sostenere un colloquio di lavoro di qualità, gli insegniamo a compilare correttamente un curriculum, li informiamo su quelle che sono le realtà che cercano concretamente delle figure e tante altre attività satellitare, oltre al fatto che intervengono tanti esperti del lavoro a intrattenerci e a spiegarci le dinamiche a noi oscure. Per noi è un successo anche inaspettato, perché volevamo essere d'aiuto, non pensavamo che saremmo stati così tanto.